L'associazione Caltanissetta Sicura evidenzia che mentre i cittadini dibattono e si impegnano su come migliorare la città, essa stessa potrebbe presto perdere il parco Dubini, dove moltissime persone vanno per passeggiare con i bambini e fare attività sportiva. Dall'albo pretorio dell'ASP, proprietaria dell'intero parco, struttura compresa, si apprende infatti che l'area breve potrebbe essere destinata a ben altro per la realizzazione di una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza sono strutture sanitarie adibite all'accoglienza di autori di reato ritenuti infermi o semi-infermi di mente. L'associazione precisa che non è contraria a tali istituti, ma la preoccupazione sorge su cosa ciò comporterebbe per la collettività. Abbiamo provato a contattare la dirigenza dell'ASP e restiamo in attesa di una risposta. Indando, il parco rimane al momento ancora chiuso al pubblico per problemi tecnici, dove le persone continuano ad entrare scavalcando la barra di accesso e di cui restiamo in attesa di una risposta dell'ASP.